Per introdurre ancora di più, il clima natalizio torna il 7 e l'8 dicembre, Ciocco Natale. Sì, questa nuova edizione del Ciocco Natale sarà come tutti gli anni scorsi, quindi veniamo subito dopo le piazzette e serve per animare questo Natale, questo Natale 2015. Ci sarà il cioccolato per tutti, ci saranno altre cose legate al cioccolato e quest'anno i bambini potranno soffrire gratuitamente di una carrozza con i cavalli e potranno anche soffrire di due poni, con il personale idoneo e attrezzato per poterli farli divertire. La carrozza partita dalla Piazza della Libertà arriverà fino a Piazza Marti del Montalto e successivamente lungo il percorso via Filelfo arriverà fino a via San Nicola. Ci saranno anche altre attività, altre manifestazioni con i commercianti stessi con la loro casa di Babbo Natale, con altri personaggi di cartone animati e animeranno questi due giorni. Quindi una manifestazione per i grandi ma soprattutto per i bambini. Grazie. Grazie.